E vedi a madite lei, oi madite è qui, ha visto tu come zon va? Le d'emminta grassa lei. Ma sai che ci fia dentro a casa, ma c'è sempre sta così. Ma infatti ti vedi, c'è stupante camera. No, un po', un po', un po', un po' di qui lei mi ha messo su. Ah, no. E vada anche, vada anche frontante, mamma. Un bicicletta fin fa su la, sulle roste vonda mattina. All'idee, vada dopo di qui una fonda. Allora, questi vedranno le... Credo. Credo. Perché le lues di questi anni? E qui? Lues del Zioial? No, no. Sì, sì. Sì, anche bene allora. Ah, sì, sì, sì. Qui c'è una malattia del Zioial? Ivan, se che lì, se che c'è, no, il Zio Zioial e basta. Eh, no. Questo qui non c'è, ma questo qui c'è adesso. E' preso, ma non lo vedevi. Non è mai nascosto più con me. Lascio un bel schietto, cioè del Vepi che era. Sì, lei che era. Allora, adesso vedremo le squadre che vengono. Cercherà di battere perché se chi vuole vincere noi dobbiamo. Che basta la sbarza della barra, hai visto? Vuol dire uno della nave, non mi ha detto? Che giocava per la nave, sembra quello che gioco avanti. Buon appetito! Buon appetito! L'altro è stato in farmacia, da Torniota. Ah, mi ha detto, mi ha detto, mi ha portato i saluti. Ora sono cercato, era dentro sconto. Lei dice che ha questioni del gatto nono e che ha questioni che veniva dietro. Ma guarda, domani è vero, qui, eh, salve. Salve. Ammi non tocchi lì. Le, no, no, sgricciate nemmeno. Torni a sciogliere e poi da questo. Ecco, guarda, metta lì. Sì, ha, bene, la sole, non c'è ma troppo. E invece non c'è il mio tempo, e ci non vado in tutto che la scioglie della cilalla. La scena va, è la scena, è la ciladata. Ma no, non c'è la nonna, non c'è la ciladata. E' l'ecchere messo, si. La lì è nata a Purella. Com'è la prossima? Guta il pomare? Chi c'è masca avanti? Guta le vigne a sta stagione? Eh? Masca avanti? Si! погuubbè? Non, no. Es principio. Si. E' scha'n bibellisl trade hein, da c'è un manca's hi- un po' frih. L'evento è un steve. Si, si. Ma, io posso andare via dì basta, io sono a divieto. Il treso, per il sottere. Ma, io posso andare in un pax, no? Si, basta. Adesso è un pax, dopo io posso andare a un po' A questo tipo è troppo. No, in un bosco di scolo wè per te fissotieli? Sì. il chamburè il chamburè Il Gino c'era qui, vedi, in Domenia. Si, si. Ah, è qui. C'è il giallo? Si, giallo. Il passa male il balle. Il è fatto di bagnare sotto, sasci? Il è perciso? Il è sito di bagnare sotto. La ora è più contro sotto. È l'attacco di l'interno. È l'attacco di giallo. L di gino, la giallo. Chi è abbastanza zento? Grazie. . . . . . . . . Sì! Grazie a tutti. 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 Grazie. No. Grazie. 3. Feste. Yeah. No. 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 No.